Non potevo che accomodarmi all'interno della cabina di un track per parlarvi dell'evento che Mercedes-Benz organizza ogni anno per stimolare la professionalità e la competenza dei suoi tecnici. Nell'ambito dei veicoli industriali, forse ancora più che in quello delle automobili, le tempistiche di diagnosi e di riparazione e la qualità degli interventi effettuati sono determinanti per ridurre al minimo i tempi di fermo delle vetture che sono ovviamente altamente penalizzanti per chi con questi veicoli ci lavora ogni giorno. Per questo Mercedes punta molto sulla formazione della sua rete di assistenza e in quest'ambito organizza ogni anno una competizione per individuare i migliori tecnici a livello mondiale. Noi oggi siamo all'interno del centro di formazione Mercedes-Benz di Vittuone in provincia di Milano e assistiamo alla finale nazionale. Dalla gara di oggi uscirà poi il Dream Team che andrà a rappresentare l'Italia nella finale mondiale a Stoccarda a metà novembre.